buongiorno a tutti e benvenuti a video speciale di introduzione alla seconda stagione prima di tutto io devo fare subito una cosa allora vado a scegliere il personaggio no e schiaccio quadrato poi scelgo il mio costume e schiaccio start giusto poi scelgo la variante con x poi selezioniamo totalmente a caso il personaggio perfetto tutto a caso media ok e scegliamo di andare a combattere esattamente nella sala d'allenamento allora ragazzi in questo video vi spiegherò un pochino le cose come sarà composto la seconda stagione di scontri da titani che senza ombre di dubbio anzi vediamo qua magari se succede qualcosa conosci il dragone nero ne ho ucciso uno credo fosse cobra altro motivo per sventrarti quindi la gattiveria di questo uomo è una cosa aia german suplex siamo trovati nel campo profughi e comunque stavamo dicendo che ho sbagliato a razzi x adesso devo focalizzarmi sul dire le cose invece di portare un gameplay mega spettacolare tanto scusa ma iron trainer io ho fatto quella cosa la quale sarebbe la sorpresa comunque allora prima precisazione sulla nuova stagione infatti vi ringrazio tantissimo per il grande successo la mia rubrica su scontri tra titani che ha avuto un successo incredibile anche inaspettato soprattutto perché alla gente piace mortal combat e io sono contento ecco aia allora primo punto della nostra zona ragazzi è la sfida brutale questa nuova tipologia di video che ovviamente anche per il nome ragazzi sarà legata in esclusiva su mortal combat e che cos'è questa sfida da usare? Molto volentieri ve la spiego allora o ci saranno due tipologie o scelgo io o scegliete voi nel senso uno dei miei iscritti prenderò come nome come esempio sempre quel nome senza che ne abbiano male gli altri ma prendiamo per esempio quel nome qua ad esempio taco player mi dice scegli kano un altro iscritto ad esempio non so makuta mi dice scegli aaron black perfetto io andrò a far scontrare queste due scelte che avrò scelto io magari anche non so aaron mi dice prendi kwan chi se ora fai il caso prendi kitana mortacci tua o ad esempio marcus c mi dice prendi scorpion no? ecco e io andrò a scegliere queste composizioni per fare un incontro questo il video sarà composto da due scontri il primo dato che questo gioco non c'è la possibilità di fare scontri uno contro uno tra computer allora l'ho disegnata così farò porterò due scontri se riuscirò a voilà se riuscirò chi vincerà lo scontro presto detto allora il punto focale come dice anche la sfida che è la sfida brutale è quello di fare portare a segno una brutality io prima farò uno scontro con il personaggio scelto da taco player e poi uno scontro col personaggio scelto da makuta in questa sfida riuscirà a vincere il personaggio che ha scelto l'iscritto con cui io riuscirò a portare la brutality ad esempio taco player io prima dell'inizio dello scontro andrò a vedere la lista delle mosse e vedrò le brutality che ci saranno selezionabili se poi non andando più a vedere come si fa la combinazione riuscirò a portare la brutality lui guadagnerà un punto secondo scontro utilizzerò il personaggio di makuta se col personaggio di makuta non riuscirò a portare a segno la brutality lo scontro verrà vinto da taco player nel caso di pareggio andrò a vedere chi ha avuto del personaggio scelto più vita e quello là sarà il vincitore ovviamente se non riesco a fare la brutality andranno ad essere selezionate le fatality quindi se c'è uno 0-0 con le brutality si andrà a vincere con le fatality stuntman quindi stesso discorso se con taco magari non riesco a fare la fatality con il personaggio di makuta riesco a fare la fatality dov'è kitano? dopo ecco la zoccola riuscirò a fare la fatality vincerà makuta ovviamente poi è più facile a vedersi che a dirsi spero comunque che abbiate capito passiamo al secondo scontro tra titani ritornerà c'è stato non un problema ma diciamo un misunderstanding dato che scontro tra titani non sarà più esclusiva di Mortal Kombat X ciao infermiera tra un po' ne avrai davvero bisogno sexy ma non brillante a parole round 1 fight ad esempio io faccio così faccio le rango mosse vado a vedermi le brutality ta 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 indietro giù X il personaggio con cui riuscirà a portare la brutality vincerà lo scontro e questo tra l'altro potrete anche sfidarvi voi nel senso magari sotto il commento Marcus C dice io Marcus C voglio che tu usi Scorpion e voglio andare contro Raffaele Caso e Raffaele Caso dovrà rispondere al commento di Marcus C scrivendo sì accetto la sfida plastic voglio che tu usi Sub Zero una cosa da genere ritorniamo sul scontro tra titani non sarà più escludito di Mortal Kombat perché ci sono tantissimi giochi tranne Street Fighter che è quel gioco bellissimo che non mi fa fare scontri uno contro uno col computer quindi togliamo quello potrete scegliere tutti i personaggi che volete e tutti i giochi che ho disponibili ovvero Mortal Kombat X King of Fighters 14 e Ultra Street Fighter 4 dato che se non mi ricordo ma lì si può fare la sfida col computer e anche di Injustice poi in futuro ci saranno anche Tekken 7 e Injustice 2 che non vedo l'ora che escano e lì potete scegliere tutti i video prima dell'inizio della nostra zona dello scontro tra titani ragazzi porterò un video dove farò vedere il menu di tutti i videogiochi che ho disponibili di Piccaduro e vi farò vedere tutti i personaggi così almeno voi avete quel video lì di riferimento e voi potrete andarvi a vedere sfogliare quel video lì per scegliere personaggi magari non ve ne ricordate uno andate a vedere lì e come detto potrete dirmi di portare uno sconto tra titani sui vari giochi c'è stato un grandissimo successo sono contento per quanto riguarda Mortal Kombat X ma ci sono anche tutti gli altri giochi poi nuova serie ragazzi ovvero la sfida estrema questa diciamo l'ho presa come si chiamano spundo da un altro youtuber americano se mi sbaglio si chiama Maximilian Dude e lui ogni tanto e anche io porterò questo diciamo che questo sarà un video speciale che ci sarà una volta al mese porterò la scalata ad esempio per quanto riguarda Mortal Kombat X porterò le torri viventi o le torri classiche e giustamente Kitana mi ha battuto e non mi fa neanche la fatality perfetto soccola vi porterò un video al mese e questo consisterà nel me vedermi giocare a difficoltà elevate perché adesso io le sfide lo sto facendo tutte a medie ma proverò a difficile se riuscirò a battere quella difficile proverò a portarla a difficoltà più elevata adesso vediamo quale tipologia di difficoltà ci sono ve lo dico subito ok controferrador media porterò a difficile dopo difficile proverò a finire una torre con molto difficile no con molto facile è già un ecco e questa la farò anche su King of Fighters ho detto che ci sono le difficoltà anche lì e su Ultra Street Fighter non lo so anche su Injustice porterò una cosa del genere ovvero una torre o una scalata dove io man mano aumenterò il livello di difficoltà ovviamente poi il video ve lo porterò con tagli perché ovviamente non sto lì a portarvi quattro ore di me che sfavello blasfemia rare e vi porterò gli highlights di tutti i pezzi proprio come fa questo youtuber Maximilian Dude con la sua sfida estrema adesso mi ricordo bene come l'ha chiamata lui comunque vi porterò anche questo video mettiamo di media subito qua perché mamma mia ok mamma mia croce via detto questo ragazzi vi do l'ultimo proprio l'ultima informazione in servizio ovvero la nuova scaletta tutto questo ragazzi partirà quando ebbene partirà dal da ottobre tutto questo ragazzi partirà anche con l'inizio delle nuove serie soprattutto partirà dalla settimana di uscita di Titanfall il videogioco uscirà il 28 ottobre che essenzialmente non so se sia un martedì o un mercoledì ve lo dico subito fermi tutti calendario bam così siamo persone precise questa nuova tipologia di video ragazzi partirà da lunedì 24 ma ci sarà una nuova scaletta adesso dovrò ancora vedere bene quali video portare perché ovviamente poi quando usciranno anche Injustice e Tekken porterà anche quelli ma ad esempio il lunedì ragazzi sarà dedicato Street Fighter portare magari sfide online e contro Bell'Uomo il martedì ragazzi porterò King of Fighter adesso sto diciamo giusto facendo un esempio il mercoledì ragazzi vi porterò la sfida estrema torre vivente o scalata in diversi giochi a difficoltà più elevate il giovedì ragazzi invece vi porterò un video su di un altro gioco ne abbiamo modo di parlare e il venerdì ragazzi sarà designato per gli scontri tra titani che andranno a come si dice ad intervallarsi con gli scontri brutali quindi una settimana ci sarà il vostro scontro che sceglierete voi o sceglierò io quindi fra voi iscritti e poi ci sarà anche il ritorno classico degli scontri tra titani magari dopo vi dirò anche tipo sotto il video di King of Fighter ditemi quale scontro tra titani volete sotto il video della sfida con della sfida estrema scrivetemi con che personaggi volete lo scontro tra titani e così e così e così via dicendo minchia non sono buono a parlare spero ragazzi che tutte queste informazioni vi siano state utili spero soprattutto che io mi sia fatto che mi avete rapito perché giustamente dopo arrivano i dizzi che mi dicono eh però non si capisce il tuo discorso riguardi la spero che abbiate capito tutti sfida brutale voi iscritti vi sfiderete scontro tra titani sempre riguarderà voi che mi direte che incontro fare ma su anche altri giochi non solo Mortal Kombat X sfida estrema io che tenterò di fare la scalata della torre vivente o la scalata sopravvivenza in altri giochi a difficoltà più elevate e poi la collocazione dei vari video ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi rimando ovviamente in questi giorni porterò video di King of Fighters magari un qualche video su Mortal Kombat Online ma la nuova stagione degli scontri tra titani intanto devo trovare anche un nuovo nome quindi scrivetemi qualche non lo so qualche nuova tipologia per chiamare questa rubrica prenderò ad esempio tutti i vostri commenti e inizierà la settimana del 28 ottobre quindi inizierà dal lunedì 24 spero che il video vi sia piaciuto scrivetemi i vostri feedback tutti i vostri commenti e se volete anche qualche come si dice qualche spiegazione fatta meglio su le varie nuove novità e ci vediamo alla prossima con un nuovo video